Presentata a Castrovillari la quarta edizione di Invito al Teatro, rassegna realizzata dall'Associazione Culturale Aprustum in sinergia con il Comune con il patrocinio della Gaspolino. Nata quattro anni fa per presentare le produzioni estive della compagnia, Invito al Teatro pian piano si è ritagliata a un apposto di tutto rispetto nella vasta proposta culturale e artistica castrovillarese. Siamo contenti di poter dare il seguito a questa rassegna, è un periodo in cui è molto difficile poter fare teatro, però Castrovillani ancora una volta dimostra che grazie alla volontà di persone che sono innamorate della cultura si può fare teatro in tante sue sfaccettature e credo che quest'anno, il 2018, sarà un anno importantissimo perché avremmo praticamente quattro diverse rassegne teatrali, ognuna più importante dell'altro, ovviamente ognuna con le sue peculiarità, però è un fatto sicuramente straordinario. Il sindaco Mimolo Polito ha portato i suoi saluti, sottolineando la vicinanza alla compagnia che in questi anni è riuscita a portare spettacoli di pregio nelle edizioni precedenti, ma anche prodotto allestimenti di grande valore come il Masaniello dello scorso anno. Sono contento che è iniziato con noi questo invito al teatro e noi per quanto possibile saremo sempre vicini ad Aprustum perché è nato in sordina, lo scorso anno abbiamo avuto grandi spettacoli. E consentitemi di dire che quello più bello è stato proprio quello di Aprustum, quello finale, Masaniello, perché era bello nell'interpretazione, bello anche nelle scenografie e in tutto il resto. Al presidente di Aprustum, Casimiro Gatto, il compito di illustrare il cartellore. Nino Racqua apre il 25 marzo prossimo, domenica pomeriggio, ecco questo c'è da dire, la cosa nuova è che per la prima volta gli spettacoli di domenica saranno alle 6 e mezza, non saranno più in serale, quindi noi ci siamo voluti sperimentare e cambiare questo. Nino Racqua ci presenta un omaggio a Luigi Tenco, Luigi Tenco che fa uno spettacolo su questa canzone, l'ultima canzone, Ciao Amore Ciao. La rassegna prosegue con lo spettacolo di Dario De Luca, che è il Vangelo secondo Antonio, e poi proseguiamo con pesce, pesce che tanti spettacoli, l'anno scorso abbiamo presentato il caso Moro, invece quest'anno ci presenta Petrolio. E poi ci sono le nostre produzioni, le nostre produzioni, lo spettacolo di teatro ragazzi che quest'anno si riferisce a una rielaborazione del Mago di Oz, che sarà a fine maggio, il 23 maggio. E in più è sempre importante lavorare con i ragazzi, i ragazzi hanno il nostro futuro. Abbiamo in cantiere, tra l'altro stiamo lavorando anche una nostra produzione di teatro ragazzi per le scuole elementari e medie, di due fiabe storiche, Biancaneve e Sette Nani e Cenerentola, però con un taglio molto contemporaneo. E poi terminiamo con una produzione, sembra nei chiostri del protoconvento francescano, il 6 e 7 luglio, e questa volta mettiamo in scena uno Shakespeare, chiaramente non una tragedia ma una commedia, sogno di una notte di mezz'estate. Ma la rassegna è partita ufficialmente con Organtino di Cesare Quintana, rappresentato il 10 febbraio scorso al Teatro Sibaris, nell'occasione del sessantesimo carnevale di Castrovillari, una farsa in dialetto arcaico e in maschera. Un'operazione difficile, molto apprezzata dal pubblico, che si è incastonata in una serie di iniziative della Proloco, atte a recuperare e rivalutare questo patrimonio castrovillarese. Si continua domenica 25 marzo alle 18.30 al Teatro Sibaris con Ciao, Amore, Ciao, Vita, Morte e Vita di Luigi Tenco, con il cantatore Dino Racco, per poi proseguire fino al 7 di luglio.